Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale e consueto della mia libreria. Torniamo a parlare di questo aereo, ovvero sia aerei della seconda guerra mondiale, una vecchia pubblicazione dell'istituto geografico di Agostini Novara a cura di Christopher Cent tradotto in italiano da Aldo G. Cimarelli. Un agilissimo strumento che ci permette di conoscere brevemente alcuni dei più importanti aerei della seconda guerra mondiale, tra cui, anche se ha combattuto solo una parte della seconda guerra mondiale, tra cui anche questo aereo. Eccolo qua, il Fiat CR32 Freccia. Eccolo qua, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Fiat CR32 Freccia. Il predecessore del CR42. Un aereo mosso da un Fiat A30RA bis, 12 cilindri in linea raffreddato a liquido, con 600 cavalli a 3000 metri. E vabbè. Armato con le canoniche due mitragliatrici Breda Safat da 12,7 mm e con una velocità massima di 355 km orari a 3000 metri e 322 a livello del mare. Insomma, un po' pochino, siamo sinceri. Però, però, però. Gli aerei della serie CR32 erano l'ossatura dell'arma aerea italiana durante gli anni 30. E sotto molti aspetti furono uno dei punti più alti dello sviluppo del caccia biplano nella tradizione della teoria tattica della prima guerra mondiale. Ovvero sia questo qui, negli anni 30, il CR32, negli anni 30, era il degno erede dei caccia biplani della prima guerra mondiale per prestazioni e tipo di combattimento che svolgeva. Allora, il CR32 fu una derivazione ideata da Celestino Rosatelli del caccia CR30 del 1932. Era inteso, il CR32, come un tipo di caccia intercettore. Doveva essere un intercettore puro. Allora, il CR32 impiegava tiranti di tipo Warren a W, ma aveva una linea molto convenzionale. Eccola. La linea convenzionale e tradizionale del CR32. Allora, era un biplano tozzo, solido, armato con le canoniche due mitraliatrici Breda Safat da 12,7 mm. La fusoliera era in metallo, la struttura della fusoliera era in tubi d'acciaio, ricoperti di tela. Ed era una struttura molto convenzionale per i primi anni 30. L'armamento era relativamente pesante, essendo la maggior parte dei cazzi del tempo armati con due mitragliatrici di calibro più piccolo, da 7,7, da 7,62, da 7,92, insomma, sapete anche voi. Allora, nonostante ciò, nel 35 apparve il CR32 bis, armato anche con due mitralettrici da 7,7, inserite nell'ala inferiore accostate alla fusoliera, in aggiunta alle due da 12,7 sulla cappottatura motore. L'apparecchio venne pure predisposto per il trasporto di due bombe da 50 kg o una da 100 in un alloggiamento sotto la fusoliera. Allora, questi aerei italiani, questi, i CR32, furono mandati in Spagna durante la guerra civile spagnola in supporto alle truppe, in supporto ai falangisti, in supporto ai nazionalisti di Franco. Nello stesso tempo si procedete a modificare alcune piccole parti del CR32 e ne venne fuori il modello CR32 Ter, che fu costruito in pochissimi esemplari. Che venne, insomma, ci fu anche un buon successo di esportazioni, perché vari paesi ne comprarono diversi di CR32 bis e Ter. La versione finale fu il CR32 Quater, che apparve verso la fine del 36. Questo ritornò all'armamento del modello originale, ovvero le due soli mitragliatrici in fusoliera da 12,7. Numerosi CR32 Quater furono allestiti con rudimentali apparecchiature per il volo notturno, ovviamente diverse dal radar. La produzione del CR32 cessò poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939, dopo che ne erano stati costruiti più di 1200 esemplari. Ma nonostante ciò, nonostante anche la sua vecchiaia, nonostante la sua inadeguatezza alla guerra moderna, il CR32 servì sia in Europa che in Africa settentrionale contro apparecchi alleati di gran lunga superiori all'ora. Ovviamente, come ben sapete, lo sviluppo finale di questa formula fu il CR42, di cui abbiamo già parlato. Praticamente il CR32 fu tipico del concetto che gli italiani avevano della caccia aerea e la continua produzione fino al 1939 pone la progettazione italiana degli aerei da caccia nella sua giusta prospettiva. Vi ripeto questa cosa signori, ascoltate bene, il CR32 fu tipico del concetto che gli italiani avevano della caccia aerea e la continua produzione fino al 1939 pone la progettazione italiana degli aerei da caccia nella sua giusta prospettiva. La prospettiva della nostra industria, una prospettiva quantomeno miope, signori, estremamente miope. Ma, ahimè, che vi devo dire? Fiat! Voluntas tua! Eh, vabbè, parliamone, detta così com'è. Allora, siccome il Fiat CR32 con la sua straordinaria manovrabilità aveva fornito una prestazione adeguata in Spagna, la sua produzione andò avanti, anche se era impensabile, un suo confronto con gli aerei alleati in possesso di velocità di 150, superiori di 150 km orari e con maggiore armamento. Insomma, insomma, insomma. Uno dei migliori aerei da caccia degli anni 30, ma che fu prodotto troppo a lungo. e che noi andammo a sostituire, ahimè, molto, molto, molto malamente, con il CR42. Perché? Perché nella testa degli altri comandi, anche nella testa stessa dei piloti, c'era questa storia del combattimento aereo manovrato in singolar tensione contro l'avversario. E non c'era niente da fare. Quello fecero i nostri bisnonni durante la Prima Guerra Mondiale, questo vogliono fare i loro figli durante la Seconda. Solo che purtroppo la guerra non funziona così, c'è tanto per dirne una. Cioè, tu è inutile che hai un biplano maneggevolissimo, di facilissimo pilotaggio, in grado di effettuare acrobazie straordinarie, quando ti arriva una formazione di hurricane a tutto gas, che ti spara addosso tutto quello che hanno, e ti lasciano lì come un cucù, perché non hai potuto far nulla. Eh, eh, eh. Oppure, pensate anche un'altra cosa, tu attacchi con un biplano, attacchi con un biplano le formazioni nemiche, i caccianemici, e quelli scappano, se la filano, perché? Perché il tuo biplano è troppo lento. Cioè, pensate una cosa, nel 1940, quando l'Italia entrò in guerra, quando l'Italia entrò in guerra, nel 1940, avevamo, cioè, avevamo ancora in servizio, avevamo ancora in servizio questi, avevamo ancora in servizio i CR32, eh, e li andavamo a sostituire con il CR42, di cui ho già parlato. Insomma, il Freccia fu un aereo eccezionale per i suoi tempi, ma, quando noi entrammo in guerra, era un aereo tragicamente superato, ed era superato, come ho già detto, anche il suo successore, il Fiat CR42. Insomma, signori, io lo dico sempre, i nostri aviatori avevano in dotazione solo una cosa, solo il coraggio. Eh, tutto il resto mancava. Tattiche, logistica, aerei decenti, tutto. Tutto qua. Quindi, cari signori, come sempre, io vi invito a scrivere le vostre considerazioni sui commenti, e, come sempre, miei cari, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!